Buon pomeriggio amici e benvenuti alla nuova puntata di Radio Web Ci Mettiamo la Voce. Dunque, innanzitutto vi dico che ancora non ci sono le interviste, perlomeno oggi non c'è nessuna intervista. Perché? Ma perché le stiamo preparando in realtà, le stiamo mettendo a puntino ed arriveremo presto. Però oggi voglio presentarvi le dinamiche di questa idea, di com'è nata e perché. Dunque, questo canale radio è un'arteria del gruppo Artigiani Social. Nato da una ragazza di cui... Dico non svelo l'identità, perché voglio dare a lei il privilegio di parlarne nell'intervista che le farò. Con Artigiani Social noi siamo presenti su Instagram, Facebook, Telegram e sul sito. Dunque, siamo una community di persone di tutta Italia, riuniti in questi portali per confrontarci, per scambiarci consigli e, in un certo qual modo, anche per aiutarci. Ma la cosa basilare è che per noi non conta apparire, ma l'essere. Perché dico questo? Perché nelle nostre storie noi veniamo alla luce con il fattore predominante della passione per ciò che facciamo e la personalità che ci mettiamo, che quindi contraddistingue ogni prodotto creato. Noi ci siamo con la voce anche per tutelare e difendere la nostra categoria di artigiani. Nella nostra community non ci sono richieste di denaro, ma solo l'impiego delle nostre energie. C'è il rispetto per l'ambiente con il riciclo creativo. E tutti i lavori che facciamo vi assicuro che sono delle vere e proprie carezze fatte a mano. Siamo un gruppo in fermento, un'esplosione di colori mostrati al mondo con i prodotti più impensabili e una gamma di vastità che nemmeno ve lo immaginate. Perché noi partiamo dalle matite, cera, china, acrilici, tempere, smalti, olio, di tutto e di più. Siamo quelli che riciclano i bancali, gli scarti di legna. Siamo quelli che riutilizzano la carta o i vecchi libri, creando capolavori che parlano da soli. Noi siamo quelli che gli insegnamenti preziosi delle loro nonne li hanno utilizzati tra i figli di bottoni, creando dei bellissimi capi di abbigliamento. Noi siamo quelli che andiamo alla ricerca delle materie prime, che diamo forma ai sassi di mare o ai ciottoli di fiume, creando delle vere e proprie opere d'arte, che trasmettono delle vibrazioni. Siamo quelli che diamo ritmo alle nostre mani e ai nostri occhi, fotografando i prodotti per poi pubblicarli nelle nostre vetrine. Siamo quelli i cui laboratori sono rifugi dove impera il caos, perché ci sono cumuli e cumuli di roba sparsi ovunque, ma è da quel caos che scatta la scintilla creativa. Noi, nella vita, abbiamo scelto di essere, non di apparire. Dunque ragazzi, questa breve prefazione l'ho voluta proprio fare con il cuore, perché sarà l'inizio, speriamo tutti noi facenti parte di questo gruppo, di una bellissima esperienza, che comunque vada, anche se non ci porterà da nessuna parte, se non riuscirà a realizzare i nostri sogni di fare di queste passioni un lavoro, comunque sia, ci avrà lasciato una bella lezione di vita, soprattutto nell'aggregazione, nel fare delle belle amicizie, anche se solo virtuali, e nel confrontarci in alcune problematiche che purtroppo noi del land made, ossia del fatto a mano, detto in lingua italiana, incontriamo tutti i giorni. E di questo però ve ne parleremo nelle nostre interviste. Quindi rimanete connessi, e vi aspettiamo, ed io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie, a presto. Ciao ciao! Applausi Grazie 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 Grazie